Bella a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 3 Siamo qui oggi sulla Moshipped Chaos, è nella mappa Nuketown, esattamente E stiamo cercando in modalità uplink, quindi ora vediamo subito come va questa partita Subito, guardate subito il casino, si parte subito, prima uccisione, prima kill, fuori uno Nooo, bastardo Andiamo, andiamo, andiamo Dovevo andare a prendere il satellite Bastardissimo Nooo, mi aspettavano lì Guardate come cazzo sparano ragazzi, ecco qua, fuori due, andiamo Ma quello com'è scappato Ma ecco qua Subito, però ce n'era subito un altro pronto, uccidermi Ecco qua, subito vendetta Nooo Vi ricordo ragazzi che io ho comunque abbastanza problemi di connessione con fastweb, perché non è il massimo Ecco Purtroppo non ho il NAT ristretto, quindi comunque ho problemi di connessione La mia non vuole essere una giustificazione, però certamente capite bene che a COD giocare così è abbastanza problematico Muori, va Eh, questi cazzi Muori, va Nooo Muori Aspettiamolo qua i bassi Andate a prenderlo, su, subito, subito Eh, muori Ma guarda Guarda come sono accamperati dietro la macchina Ok ragazzi, bisogna buttargli una bella bombetta dietro la macchina Subito Vediamo un po' ora Nooo Muori, va Ma guarda come cazzo stanno accamperati Hanno capito che li vogliamo attaccare Muori Guardali tutte e due Che casino Andiamo, andiamo subito via E che ci ammazzano Nooo Bastardo Ragazzi, ma c'è quello lì sopra e nessuno che lo ammazza Quello sta lì sopra da non so quanto tempo Ragazzi, nessuno lo va ad ammazzare Io non ci voglio credere, cioè Ecco qua, muori, va Ecco qua, muori anche tu Ecco, se no è morto Va bene, andiamo, andiamo Muori, va Nooo Ok, ok Comunque ragazzi, siamo ancora 0-0 Incredibile, partita combattutissima Ah, round vinto 1-0 Ok, eccoci giunti al secondo round Vediamo se ci portiamo a casa anche questo Muori, va Subito qua, ecco qua Dove pensavo l'avesse ucciso il mio compagno Invece era ancora lì Muori, va Ecco qua, guarda No Non sono riuscito a prendere il drone satellite Ragazzi, devo andare a prendere il drone satellite a tutti i costi Mettiamo questa qua No, ecco qua Nooo, quasi doppia Stiamo 3-0 comunque ragazzi Stiamo vincendo, quindi Calma, sono una No, 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 no Nooo Stanno cercando di recuperare ragazzi Stanno cercando di recuperare Dobbiamo Subito reagire Eh Merda Ma perché non muore Cazzo l'ho colpito Muori Rag di merda Eh, vabbè Questo lateralmente Ok, andiamo E questo Sì, vabbè Sti Eh, muori un po' Ah, fanculo Muori, va Camper del cazzo Muori pure tu Muori proprio male Muori anche tu Muori male Mi avete rotto Muori Muori male Muori Andiamo, andiamo Muori male Nooo Quanti cazzi ce ne sono Andiamo, andiamo Tempest disponibile Ragazzi, usiamo il Tempest Vai, muori Guarda, uno e due No, ma come è possibile Cioè ragazzi Ditemi com'è possibile Mi stavo sparando da un centimetro Mi è riuscito a colpire Poi dite che non è la connessione Maledetto Un atto ristretto del cazzo E vai ragazzi Round vinto Spero che l'episodio vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Lasciate un like Commentate Condividete Se, vi ripeto Se avete qualche Richiesta particolare Che volete fare Fatela pure Mi raccomando ragazzi Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Qui da AngeloNero83 Tutto Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao